Ho letto che Afrudite, dopo la sua nascita in una conchiglia, fu spinta da Zefiro sulla spiaggia dell'isola di Cipro. Qui le ore che erano le custodi dell'Olimpo e le sorelle delle Moire, la ghindarono e la condussero presso gli immortali che ammirarono la sua bellezza. Zeus diede a Afrudite in moglie a Efesto, il dio zoppo che faceva il fabbro nell'isola di Lemno, per ricompensarlo di avergli fornito i fulmini nella guerra contro i giganti. Tuttavia Afrudite amava segretamente Ares, il dio della guerra, e un mattino al sole che sorgeva Efesto sorprese i due amanti. Allora fabbricò una rete magica in cui una notte li imprigionò per esporli a tutto l'Olimpo, chiamato Raccolta. Afrudite fuggì piena di vergogna a Cipro e, dall'unione con Ares, nacquero Eros e Antero, Deimos e Phobos, il terrore e la paura. Afrudite ebbe altre vacanze coniugali, tanto che amò anche Adone e Anchise, da cui ebbe Enea. Perché quei popoli credevano agli dèi che oltretutto non avevano mai visto? Commento. Perché erano popoli alle prime incarnazioni umane e avevano bisogno di leggende. Con la progressione dovuta alla maggiore evoluzione, anche molti popoli attuali hanno bisogno di crearsi degli dèi, che adesso sono i campioni sportivi, i capi religiosi, gli artisti, gli statisti. Anche questi sono miti illusori, perché solo l'assoluto è il mito, perché in ognuno è ovunque.